Buongiorno e buona domenica, anche se in realtà di buongiorno qui c'è poco, dato che sto registrando che sono le due di notte praticamente, quindi mi metto avanti e se c'è qualche notturno coraggioso che vuole andarsi a vedere il video, beh, benvenuto, ciao anche a te, per tutti gli altri invece buona colazione, bene o male dovrebbe essere l'orario della sveglia della domenica per chi ha la possibilità di riposarsi in questa giornata. Intanto non ci siamo visti ieri, ho passato la giornata completamente a cercare di migliorare un pochettino le luci e ovviamente tutto quello che riguarda l'inquadratura dei video, non siamo ancora arrivati alla soluzione definitiva, mi stanno ancora arrivando alcune luci che dovrebbero migliorare ulteriormente il tutto, però posso dire di essere abbastanza soddisfatto del risultato, spero che anche per voi possa essere qualcosa di piacevole alla vista. Di cosa parliamo oggi? Già nella scorsa pausa nazionale avevamo un pochettino ripreso quella che era un'abitudine, cioè guardare il prossimo blocco di partite. Da qui alla partita col Toro avremo cinque partite di campionato più la Champions e quindi dovremo cercare di capire bene o male che tipo di mese sarà ottobre. E' già due o tre volte che vi dico occhio ad ottobre perché ottobre sarà un mese veramente molto complicato per la Juventus. La Juve che in questo momento si sta ancora un po' leccando le ferite in seguito al pareggio con il Cagliari che è costato tanto dal punto di vista psicologico e che ha fatto letteralmente buttare due punti alla Juve. E' ironico perché nello scorso video di questo tipo ero andato un po' a leggere quelli che erano gli impegni della Juventus e vi dicevo attenzione, ottobre sarà tosto quindi noi a settembre prima di questa pausa nazionale dovremo cercare di fare almeno 10 punti in campionato e almeno 4 punti in Champions. La Juventus in Champions ha fatto bottino pieno, 6 punti, quindi è andata oltre le mie aspettative per quanto riguarda la Coppa dei Campioni. La Juventus in questo momento è una delle poche squadre che ha vinto entrambe le partite di UEFA Champions League, mentre in campionato le aspettative sono decisamente più basse. Quindi io direi di cambiare la schermata e andare a vedere quelle che erano state appunto le partite della Juventus perché ci eravamo lasciati con uno 0-0 prima della pausa nazionale contro la Roma. Era la Roma di De Rossi per farvi capire quella che andavamo a affrontare il primo di settembre. capite quanto tempo è passato da quel momento lì e quante cose sono cambiate da quel momento lì. La Juventus ricominciava l'iter con un altro 0-0, con l'Empoli, e lì c'era stata secondo me una vera e propria grande sorpresa perché io non mi aspettavo che la Juventus potesse lasciare altri punti per strada contro una squadra come l'Empoli che è una squadra molto in forma, sì in assoluto questo è un dato di fatto, però doveva la Juventus cercare di recuperare un pochettino il terreno che aveva perso in seguito al pareggio con la Roma. Poi c'era stato l'esordio in Champions League, un ottimo esordio in Champions League con la Juve che fa tre gol, subisce il primo gol stagiovanale, all'ultimo secondo quando ormai aveva staccato la spina, pronta per affrontare il Napoli e nuovamente 0-0. La Juve che va a collestionare il terzo pareggio di fila, il terzo pareggio per 0-0 ed ecco che inizia un pochettino ad esserci della polemica all'interno del tifo bianconero. Poi la Juventus va a Marassi contro il Genoa, uno stadio che storicamente negli ultimi anni è sempre stato ostile per la Juve, uno stadio però vuoto per via degli scontri in Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria e la Juve torna a vincere per 3-0. Poi c'è la serata di Lipsia, quella folle in cui la Juventus rimonta tutto e perde dei giocatori importanti come Nico González e Bremer, soprattutto Bremer, e poi appunto l'ultima partita con il Cagliari dove accade un pochettino di tutto, dove la Juve non riesce a chiudere una partita stra-dominata e alla fine c'è la beffa finale con rigore di Marin. Tutto questo è stato un mese in cui la Juventus oggettivamente in Serie A ha vinto una sola partita. Io mi aspettavo di vincere con l'Empoli, mi aspettavo di vincere col Cagliari, secondo me quasi tutti ci aspettavamo almeno 4 punti in queste due partite. Non dico che tutti ce ne potevamo aspettare 6, ma almeno 4 punti secondo me ce li potevamo davvero attendere tutti. E poi il Napoli e il Genoa Marassi sono sempre due partite un po' così. La Juventus fa 4 punti qua e ne fa 2 invece tra Empoli e Cagliari. Vedete quanto è difficile pronosticare anche solo un piccolo pezzo di stagione, un piccolo blocco di stagione. E poi in Champions invece abbiamo fatto punteggio pieno. Vi dicevo anche che era necessario cercare di immagazzinare punti, di cercare di non commettere passi falsi, che era quasi probabilmente vietato sbagliare in Serie A. Perché? Perché ottobre sarebbe stato veramente difficile. Quindi andiamoci a vedere quelli che sono gli impegni della Juventus nelle prossime settimane. Si parte con Juventus-Lazio, una sfida che la Juve affronta in casa. Una sfida sicuramente non impossibile, ma nemmeno una passeggiata di salute. La Juve sta continuando a far fatica contro le squadre chiuse. E la Lazio è una squadra che in questo momento sembra stare anche abbastanza bene. Poi c'è lo Stoccarda, il Champions League, dove la Juve dovrà cercare di mettere ancora dei punti tra lei e quelle che inseguono, tra quelle che vogliono tornare anche all'interno della competizione vera e propria. E dopo aver riaffrontato il campionato, dopo essere tornati in Champions League, si va a San Siro contro l'Inter. Devo descrivervela questa partita e il livello di difficoltà di questa gara? No, assolutamente no. Poi potrebbe esserci una sorta di defaticante per la Juventus in casa contro il Parma. Abbiamo visto che anche col Cagliari, se poi queste partite non le chiudi, rischi di pareggiarle e a volte lascia anche dei punti per strada. Per poi andare a Udine contro l'Udinese, una squadra che è partita molto bene in questo campionato. Nuovamente in Champions con il Lille, magari anche per monitorare alcuni giocatori in chiave mercato. Si è parlato tanto di alcuni affari che potrebbero essere chiusi con il Lille dopo quello di UEA. E poi c'è il derby di Torino, il derby della Mole, Juventus-Torino. Il 9 di novembre, prima di affrontare un'altra pausa nazionale che poi ci vedrà affrontare il Milan come prima partita del ritorno da questa sosta. Insomma, è Lazio, Stoccarda, Inter, Parma, Udinese, Lille e Toro. Sette partite nel giro di un mese circa, anche qualcosina di meno in realtà, di cui cinque in Serie A e due in Champions League. Sulla Champions dico esattamente la stessa cosa che avevo detto nell'altro video, cioè almeno quattro punti. Sarebbe bello vedere la Juve fare almeno quattro punti. Quindi con i sei portarsi a quota dieci. Quota dieci dopo quattro partite, tre vittorie e un pareggio, sarebbe secondo me un ottimo risultato per la Juve. Ma in Serie A, dopo aver lasciato per strada tantissimi punti anche con squadre che potevano essere sulla carta molto più facili da affrontare come Empoli e Cagliari, che secondo me sono i due grandi risultati negativi della Juve in questa stagione in Serie A, perché i pareggi con la Roma e con il Napoli si possono pure accettare, per quanto mi riguarda. Bisogna vincere col Parma, bisogna vincere col Udinese, bisogna vincere col Toro, bisogna cercare di fare almeno questi nove punti. Nelle altre due partite, con Lazio e Inter, è ovvio che sarebbe banale, scontato, dire bisogna vincere. Fare 11 punti, secondo me, nelle prossime cinque sarebbe già buono. Poi è ovvio che potrebbero non essere così scontate come i tre punti col Parma, i tre punti con l'Udinese, i tre punti col Toro, si pareggia con l'Inter, si pareggia con la Lazio. Potrebbe essere anche qualcosa di diverso. Però la Juve deve cercare di recuperare un po' di terreno. Cioè, mettersi qua oggi e pensare a dover fare 11 punti, io non so dirvi se essere ottimisti, se essere pessimisti, se essere realisti, non lo so. Secondo me sono anche tanti 11 punti in questo mese scarso con anche la Champions in mezzo. Mi aspetto che la Juve possa farne anche meno, però il desiderio è che la Juve ne possa fare almeno 11. Perché se non facciamo almeno 11 punti o 10 punti, qualcosa del genere, cercando di non perdere, soprattutto con l'Inter, per non far perdere terreno alla Juventus nei confronti di quelle che possono essere delle vere e proprie competitor per le zone nobili della classifica, che non significa che la Juve dovrà arrivare lì, vincere il campionato alla fine, però rimanere attaccato a quel gruppo lì credo che sia veramente il minimo indispensabile. Se non fai almeno 10-11 punti, la vedo male, la vedo male, anche perché poi appunto vai a affrontare il Milan, che oggi non è una corazzata irresistibile, però sai anche che Milan è una squadra con dei giocatori forti, l'allenatore è in bilico, chissà che durante la prossima pausa nazionale non possa concretizzarsi anche un esonero e una sostituzione in panchina per il Milan. Insomma, ragazzi, questa è la situazione, mi piacerebbe dirvi che è tutta bella, rose e fiori, possiamo stare tranquilli, dormire belli, rilassati, no, non è così, non è così, ed ero stato abbastanza chiaro all'interno del video dell'altra pausa nazionale in cui dicevo facciamoli ora, se non li facciamo ora poi diventa un po' più complicato immaginare di farli dopo. dato che non li abbiamo fatti, ora dobbiamo fare straordinari, è come quando devi, non lo so, recuperare delle ferie e devi fare un sacco di straordinari, e devi farli bene, perché poi il capo deve andare a vedere come hai lavorato e in cambio deve darti una ricompensa, questa ricompensa devono essere i punti che tornano un po' indietro rispetto a quelli che veramente ci siamo mangiati da solo qui due col Cagliari ancora, ce li ho qui, ma meritatamente persi coi due punti. Deve essere stata una lezione, dobbiamo aver aggiunto un pezzettino nel nostro processo di crescita per riuscire serenamente a affrontare anche un mese complicato come quello che ci attende. Voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, voglio i vostri pronostici qui sotto nei commenti per poi andarli a resumare in occasione della prossima pausa nazionale e andarci a fare magari due risate, si spera, perché se ci facciamo due pianti significa che la stagione in Serie A è andata molto molto male. È vero, è ancora presto, ma si inizia a perdere tanti tanti punti contro squadre che invece sulla carta devi battere, allora diventa molto molto complicato. Ciao ragazzi!